Cari telespettatori di Fanu TV, oggi ci troviamo a Marlena, nel comune di Senigallia ed esattamente all'interno di questa biblioteca Luca Orciari, perché fra pochissimo avrà inizio una conferenza stampa e l'inaugurazione di questa mostra dedicata a Roberto Spaccarelli. Intitolata da Urbino a Marzocca, viaggio libero tra natura e luce, la retrospettiva all'intento di ricordare l'artista a pochi mesi dalla prematura scomparsa e di rendere fruibile a chiunque la poesia, la bellezza e l'intensità delle sue opere. Zampa, lei è il curatore di questa mostra splendida che oggi verrà inaugurata, dopo tanto lavoro si terrà questa conferenza stampa. È un omaggio a un vostro compaesano, una persona molto amata e stimata. Ci può raccontare intanto la vita? Questo nelle intenzioni di chi l'ha voluta fortemente e nelle mie c'era un'altra intenzione ancora, quello ancora di una volta di farlo conoscere al pubblico, perché lui è sempre stato molto restio di apparire al pubblico. Quindi, ecco, è un omaggio al suo lavoro, ecco per me. Ancora una volta, diciamo ogni 15-20 anni, lo proponiamo. L'ultima volta è stata a Senigallia nel 97, con questa mostra molto importante. A distanza di 20 anni, ci ripetiamo adesso. Io l'ho fatto con molto entusiasmo, convinto di quello che ancora una volta andavo a fare. In Italia è un omaggio, per me è un omaggio veramente all'artista, ecco. Ecco, quello ad esempio che ha alla sua destra, uno dei suoi dipinti preferiti? Dunque, io l'ho duro da sempre. Io ho una piccola collezione in casa, che Roberto, mio cugino, mi ha donato, mi ha donato nel corso degli anni alcune sue opere. Questa non ce l'ho, devo dire che un pochino mi dispiace, perché è una cosa che adoro, ne ho altre molto belle. Sì, questa è anche una delle mie preferite, ce ne sono molte altre. Devo dire una cosa, questo con un po' di dispiacere e di rammarico, perché quelle che vedremo qui sono solo una piccola parte di quello che è tutto il campionario del suo lavoro durante questo cinquantennio, perché moltissime sono sparse un po' in tutta Italia. Lui amava donarle le sue opere, non ha mai venduto, per lui l'arte era questo, era un dono, tutti dovevano avere, possedere, senza lucrare, senza vendere. Era un uomo fatto così. E quindi tantissime sono in giro, sparse in Italia, perché raccordo una piccola cosa. Il papà e la mamma di Roberto erano proprietari di un albergo che è una zocca e già dagli anni 60, i primi anni 70, quando Roberto frequentava l'Accademia in Urbino, i villeggianti che venivano puntualmente in albergo d'estate, gli chiedevano sempre, sapevano che lui ripingeva, Rob e Roberto ci regalano, vedevano i quadri, ci regalano un quadro. Ne ha regalati tantissimi, sempre. Quindi sono sparsi in Italia, in Germania, in Svizzera, un po' dappertutto. Regalati a chiunque. Alcuni sono già nel Museo di Arte Moderna di Senigallia, donati al Museo Medesimo, molto belli. E gli altri sono quelli che io ho raccolto qui, tra Marzocca, Senigallia, nelle piccole collezioni private. Tutti i dipinti locali questi. Dipinti, ecco, di questa zona qua. E quindi abbiamo fatto questa raccolta nei limiti, con i limiti che ci sono, lei vede, sono installati su pannelli, quindi il numero che ho potuto installare è questo. Insomma, sono comunque un numero considerevole per capire quello che è stato il suo lavoro e tutta la sua opera. Ci sono le litografie, ci sono gli acquerelli, ci sono gli oli. L'acquerelli con cui lui ha lavorato tantissimo negli ultimi anni. Ecco, c'è stato un periodo della sua vita che però è soltanto appartiene a un decennio della sua vita artistica, che è quello degli anni 70, in cui ha dipinto la maggior parte degli oli, dopodiché si passa al periodo degli acquerelli, la litografia appartiene agli anni dell'accademia perché faceva parte di un corso accademico in litografia nella quale c'è leva e poi c'è il periodo degli acquerelli che secondo me forse è il più significativo perché è la fase più matura dell'artista in cui si esprime proprio con l'acquerello in maniera... nel modo che gli era più consono, insomma. Con questa leggerezza, con questa che era poi il suo strato distintivo. Zampa, direi di raccontare un'altra opera. Leggo qua l'olmo bello, un olio su tavola. Bellissimo. Questo quadro rappresenta un olmo che esiste veramente a Senigallia e il quale Roberto era affascinato da questo splendido albero con questa chioma così imponente. La bellezza di questo quadro sta nei colori che sono splendidi, ma soprattutto io credo per qualunque osservatore non sia difficile notare come le persone che camminano ai piedi dell'albero sembrano muoversi e andare avanti e indietro come in uno spartito musicale, questi uomini che sembrano proprio che camminino. Ed è una cosa, ma non è facile, questa è la bellezza. Cioè c'è l'impressione proprio che siano in movimento. Ha reso con una pennellata, è riuscito a far camminare delle persone dipinte su una tela, su una tavola in questo caso. Sembrano proprio in movimento, come diceva lei. Quindi è una cosa splendida, direi di sì. In questa mostra ci sono anche delle opere che lui ha realizzato giovanissimo. Sì, assolutamente sì. Queste che lei vede sono opere del 72, 72 e 73. Nel periodo in cui ha frequentato il liceo artistico Urbino e il primo anno dell'Accademia. Quindi un Roberto Spaccarelli, 17enne e 18enne. Quindi questa in modo particolare è l'opera con cui si è diplomato al corso di pittura con il massimo di voti con 30 elode con quest'opera. E' un paesaggio marchigiano. E' intitolato esattamente paesaggio marchigiano. Rappresenta delle colline, le classiche colline, le dolci colline marchigiane. E il cielo è rappresentato da questa virgola, un po' un taglio, un pochino la fontana. E comunque io lo trovo splendido nella sua essenzialità. L'essenzialità è che un tratto racconta quello che è un paesaggio. Esatto. Passiamo al prossimo. Questo è intitolato I tetti. Sì, rappresenta un villaggio visto da una prospettiva dai tetti, quindi con questi colori teni che appartengono proprio alla sua tavolozza. Un altro dipinto in cui era molto giovane è questo qua. Semplicissimo ma molto significativo. Di quel periodo e quindi fanno parte di questa... Diciamo, lui ne ha dipinti tanti. Io ne ho alcuni, altri a casa. Questo ad esempio rappresenta, mentre l'altro rappresenta le colline, questo vuole rappresentare il mare con una nuvola e quindi ecco, con questo tratto, con questa pennellata c'è tutto un mondo, c'è il mondo marino con le nuvole. E questo, sinceramente, io dove non do titolo è perché non c'è titolo, io non voglio appropriarmi di una cosa che lui ha fatto e che ha lasciato senza titolo, però a me, se io avessi dovuto dargli un titolo, l'avrei intitolato Paesaggio Colori, semplicemente, perché poi lui dipingeva i paesaggi, quindi questi colori mi sembrano un paesaggio colori, nella mia fantasia. Non lo so, poi non voglio interpretare quello che lui... Poi questi invece hanno un segno più classico, questo è un nudo, sono le bagnanti nude, c'è questa bella proporzione, questa bella struttura, questi corpi che si abbassano, la trovo molto bella, questo per esempio è un giocatore di biliardo, si riferisce, lui andava spesso anche nei bar di paese qui a Marzocca, negli anni 70 si giocava molto biliardo, era un gioco tipico dei bar, con questo dipinto, con questo acquerello ha rappresentato proprio questa scena di paese, il biliardo del paese, con questi uomini che a me sembra si stiano proprio muovendo sul biliardo, c'è sempre questo senso del movimento che è bellissimo. Solo di questo quadro che lei vede in alto è la zingara, in effetti rappresenta una zingara che lui probabilmente ha conosciuto, ha visto girando Marzocca e la ritratta con queste sembianze, ne sembrano molto belle. Questo è senza titolo, è sempre uno dei tanti volti che lui ha dipinto sempre con la tecnica dell'acquerello e che a me sembra molto rappresentativo di quello che era il suo mondo, ce ne sono tanti, ho scelto questa, non potevo scegliere tantissimi altri, queste fanno parte invece proprio dell'ultimo periodo, quando lui diventa veramente leggero, si spoglia quasi completamente di tutto. E spogliamo anche le donne? No, le donne no, Roberto, ah le donne sì, nude assolutamente sì, questo è un nudo di donna che lui intitola Donna Angelo, come le vedi, questo è un ritratto di una fanciulla, di una bimba. Lui non ha mai amato l'arte che facevo e nello stesso tempo fino a una volta mi ha detto che stimo molto, perché il concetto era quello della sincerità e secondo me il concetto della sincerità è uno degli elementi portanti di tutta la sua ricerca. Ecco Cesarini, lei si è occupato anche della descrizione del catalogo, oggi ci parlerà un po' del profilo artistico, giusto? Sì. Avete fatto la stessa scuola? Abbiamo fatto l'Accademia delle Belle Arti Urbino, quindi ci siamo ritrovati insieme agli esordi a fare l'esperienza dell'arte da giovani, quindi c'è questo legame forte fin dall'inizio. Che artista è stato? Beh, è stato un artista estremamente coerente, la mostra lo dimostra, nel senso che ha perseguito una sua idea che era molto legata a una questione emotiva, di sensibilità e di espressione di sé, con una grande sincerità, anche se nel corso del tempo le opere si sono evolute, hanno cambiato forma, però direi che c'è un'intima coerenza che le lega a tutte, che è quella propria di una sincerità e di volontà di espressione che gli era propria. Si è parlato molto anche di una umiltà personale, quindi lui ha donato anche tanti dipinti. Sì, beh, in effetti per lui l'arte era una forma di comunicazione, in effetti il fatto di donare era un modo di comunicare, infatti lui donava e parlava, parlava e donava e quindi era un circolo continuo tra questo bisogno estremo che lui ha sempre avuto, fino a quando l'ho conosciuto io, di esprimersi, di tirare fuori sempre quello che sentiva e quello che aveva dentro. E quindi lei oggi non poteva assolutamente mancare per questo appuntamento? Assolutamente, quindi per me è importante perché un omaggio a un artista, poi un artista sincero, secondo me coerente e di valore come lui, non poteva assolutamente esimermi. Sindaco, momento importante in questa domenica d'estate, Roberto, un grande artista, un vostro compaesano scomparso recentemente, però oggi possiamo ammirare queste sue tante opere. Beh, intanto un grande grazie alla comunità, alla biblioteca, alle associazioni di Marzocca che hanno voluto rendere omaggio a un nostro grande artista, scomparso da poco ma che ha segnato tutti noi. Roberto è presente in tutte le case, è stato veramente un grande artista. Di solito sono autodidatti, invece qui c'è studio, c'era passione, c'era competenza e il centro sociale e la biblioteca hanno fatto molto molto bene a dedicargli questa giornata all'estate. Piaceva tanto, era sempre in bicicletta, in giro per la città, un bel segno per la nostra comunità. E lei oggi ha voluto essere presente per portare il suo saluto agli ospiti, per esempio? Beh, intanto era un amico, lo conoscevo da sempre, abbiamo trascorso l'infanzia insieme, a lui con i suoi aneddoti, con i suoi racconti e con le sue belle immagini che regalava tutti e ci dovevamo essere il comune di Senigallia. E' particolarmente grato alla comunità di Marzocca per aver voluto questo bel pensiero. E la critica che Roberto svolgeva a tutta questa società era una critica non moralistica, io lo verevo, lo sentivo, lo ascoltavo, bensì filosofica in quanto coglieva l'inconsistenza, ora qui dobbiamo usare proprio un linguaggio filosofico, di questa società coglieva l'inconsistenza ontologica ed esistenziale. Professore, manca pochissimo a questa conferenza stampa, a tanti relatori che hanno contribuito ad allestire la mostra, ma anche ad occuparsi del catalogo. Allora siamo tutti emozionati perché è un'iniziativa che abbiamo voluto, che sentiamo con tutta la nostra anima. Fra l'altro, vedrete, è una manifestazione molto variegata e questo lo dirò anche nel mio breve intervento perché Roberto aveva una personalità polietrica, non era soltanto un artista, però anche un pensatore, un credente e infatti chi sfoglierà il catalogo vedrà di Roberto varie dimensioni e quindi vari relatori hanno curato queste varie dimensioni, quella artistica, quella filosofica, quella culturale in senso generale e fra l'altro c'è anche una novità, un'aggiunta non quantitativa, bensì qualitativa, quella curata dalla dottoressa Cinzia Pancalletti, consulente grafologa, che attraverso la grafologia, la scrittura di Roberto ha colto dei tratti della personalità di Roberto e questo io credo che sia un dato, tutta la nostra presentazione, sia scritta sia adesso orale, un dato molto originale. Fra l'altro dobbiamo dire un qualcosa di molto importante a mio parere, mentre tutti noi conoscevamo Roberto addirittura fisicamente, diciamo così, al più fisicamente, la dottoressa non conosceva fisicamente Roberto, era l'unica che non conosceva fisicamente, anche perché non è di queste parti, nonostante questo, ecco, accolto attraverso la grafia tratti della personalità, il che significa che la grafologia è una disciplina molto valida, soprattutto nelle mani di una professionista, ecco, indubbiamente. Adesso chiedo un attimo al nostro operatore Francesco di inquadrare, perché all'interno di questo catalogo effettivamente sono state riportate delle frasi, la scrittura proprio di questo artista, che la dottoressa è andata ad analizzare. Quale personalità è emersa? È una personalità, come diceva il professor Moranca, abbastanza variegata, complessa e ricca, molto ricca. Effettivamente io fino a qualche mese fa non avevo neanche sentito parlare, non conoscevo neanche questo cognome. La grafia, sarebbe scontato dire che ha una carica di creatività incredibile, lo so, però dalla grafia c'è un segno ben preciso ed emerge chiaramente questa creatività, ma non solo artistica, pittorica, ma anche da un punto di vista di ritmo musicale. C'è un altro segno che indica proprio creatività musicale, questo ritmo che lo poneva anche all'unisono con la natura, con il pulsare della vita. È un qualcosa molto forte in lui. Un altro aspetto che forse mal si concilia a volte con la creatività invece è uno schematismo. Lui aveva questo schematismo, una rigidità interiore, senso del dovere molto forte. È particolare anche per questo perché riusciva a conciliare questi due aspetti apparentemente discordanti all'opposto. Come diceva il professore, lei mi conferma, non lo conosceva? No, assolutamente, assolutamente. Mai sentito nominare fino a tre o quattro mesi fa circa, quando ho iniziato a esaminare gli iscritti, i quadri e fare il profilo di personalità. Io ho avuto il piacere di conoscere Roberto molti anni fa in quella biblioteca. Era così facile entrare in sintonia con lui. Era molto diretto. Era una persona che poneva problemi profondi con grande semplicità. E ogni volta che penso a lui, penso al motto tedesco Kunst ist einfach. A noi spesso non piacciono i tedeschi, ma a volte hanno il modo ficcante di riassumere. Arte è semplice. Il complesso che diventa semplice è attraverso l'arte. Quante volte passava davanti all'erboristeria, dove era Mauro, e gli dava una cartellina dei suoi disegni per me. Quante volte io ho sfogliato quei disegni. Quante volte, e adesso, da quando non c'è più, ogni tanto vado a rivederli. E quante volte me lo vedo davanti. Arte è semplice e complesso nello stesso modo. Il vero modo di ricordare un artista è naturalmente apprezzarne le opere, vederle, apprezzare tutto quello che ha fatto. Noi non possiamo fare altro che un esercizio nei confronti di ogni essere umano, di approssimazione, un esercizio di esperienza dell'altro. Non metterci nei panni dell'altro, ma fare un esercizio di avvicinamento, di esperienza dell'altro che è di fronte a noi. È quello che ho tentato di fare io, e vi assicuro che le conversazioni che purtroppo negli ultimi anni erano sporadiche, rarissime, ma una volta erano più intense, erano di grande, di grande bellezza. Mi cerco volte nello spazio umido della notte, leggendo parole al mio Dio. Tra i misteri sparsi del giorno andato, disegno le immagini che amo, e come graniglia attecchita alla memoria, rimango ancorato alle mie radici. E quello che mi ha colpito veramente tantissimo è stato anche per me leggere un po' dopo i suoi scritti, perché non mi sarei mai aspettato questo continuo riferimento alla ricerca di Dio. Continuo, nei suoi blocnotes, nei suoi appunti, sotto i suoi disegni. È veramente un continuo, un continuo ricercare ciò che è essenziale nella vita. Una delle cose che ho citato nell'introduzione dice io nel bello cerco Dio, nella natura cerco Dio, nell'uomo cerco Dio, nell'aria cerco Dio, nella notte cerco Dio, tutto parla di te, dono armonioso di te. A Roberto, un giorno una fata ha trovato un pannello, l'ha dato, ma Roberto ha il chiarore delle stelle. Era impregnato da sentimento, l'aveva imbevuto da fantasia, tutto intriso d'amore per il bel e un po' macchiato da filosofia. Ha detto, la vedi com'è la natura? Tutti i colori che vien e che vanno, al caldo di estate, al freddo e al gel, che meraviglia ogni giorno dell'anno. C'è un girasol che pende la testa, fisso il su te la prima che mora, che il cielo è rosato, ma lì l'orizzonte, roba lo svelte, cadè nasce il sole. Le lugo il passeggene su un cielo infinito, l'azzurro profondo del mar può rubare, la barca che pesca sa tanta speranza. C'è il pannello e la genialità. guarda i crocai che volano bassi, l'onda che sbuffa, la nene è insurdina, se sta il pannello, tu lo sai può rubare, i raggi del sol sul mar la mattina. s'ha negolupa di simpatia, te lasse un pannello, che c'è la magia.